ben trovati con un nuovo appuntamento della nostra vetrina dell'auto ciao daniele caro daniele io sono felicissima perché mi hai portato davvero in un posto stupendo siamo a milano in via petitti otto ma dove siamo oggi ti ho fatto un regalo grandissimo oggi ti ho portato nel magico mondo jaguar land rover siamo nel lusso più completo siamo nel il prodotto che rappresenta per antonomasia l'eleganza e ti ho portato in questa che è la sede principale di lario miauto lario miauto è una realtà da oltre 15 anni in partnership con jaguar land rover per cui estremamente consolidata che ha un'estensione sulla città di milano pazzesca perché veramente copre tutta la città questa è la sede principale siamo in via petitti ma c'è una bellissima sede anche in via lario dall'altra parte della città nella zona sud c'è uno stupendo impianto in via mecenate chiaramente tutti gli impianti sono dotati sia di vendita che di assistenza poi in piazza la grippa c'è un centro specializzato per l'usato e per l'assistenza ma non è solo milano perché lario miauto è talmente diciamo così in partnership con questa grande azienda che ha voluto estendere i propri confini anche sulla provincia di lecco infatti proprio nella città di lecco c'è un bellissimo showroom con assistenza nella zona di della provincia di bergamo esattamente a grumello del monte anche lì un impianto bellissimo che vi invito a visitare e ultimamente anche nella provincia di sondrio questa è la realtà di lario miauto ma oggi siamo qui per presentare delle prodotti particolari che sono i prodotti usati usati anzi chilometro zero e usati approved perché tutto il prodotto di jaguar land rover viene proposto ai clienti con una sorta di carta di identità particolare con una serie di controlli e di garanzie che vengono addirittura dalla casa automobilistica per cui la garanzia che c'è la casa automobilistica che sorveglia che effettivamente la qualità sia quella che viene proposta viene proposto un prodotto particolare però vorrei prima di andare a vedere l'autovettura che i nostri clienti sono sicuramente interessati farti vedere quello che è il loro sito ci spostiamo se sempre ci segue nella zona di accoglienza perché le concessionari jaguar land rover proprio in virtù del fatto di essere un prodotto altamente di qualità altamente prestigioso offre non soltanto al cliente la possibilità di visionare queste bellissime macchine ma anche vieni vieni ti faccio vedere questo è una chicca che si trova soltanto in queste concessionarie questo per esempio è un angolo se adesso sebb ci segue un angolo di quello che può essere considerato l'hospitality per cui il cliente arriva anche la possibilità oltre di parlare con i consulenti di sedersi qua a farsi offrire un caffè quello che volevo farti vedere questo hanno deciso di inserire tutto il prodotto jaguar land rover approvata all'interno di un sito che si chiama mobility.it www.mobility.it all'interno di mobility.it qua potete vedere c'è un particolare campo che è quello delle occasioni basta andare su le autovetture d'occasione e si apre un motore di ricerca dove c'è la possibilità di vedere vediamo se ci riesco perché la tecnologia al contrario faccio sempre un po' fatica vediamo un attimino sì dicevo c'è la possibilità di vedere il prodotto destinato proprio al marchio jaguar land rover per cui c'è un motore di ricerca molto semplice basta entrare sulla marca in questo caso vediamo già land rover qua ecco quello che vi farò vedere oggi è una piccola selezione tenete conto che ci sono oltre 40 autovetture land rover disponibili e una ventina di jaguar per cui oggi vedremo una selezione. Sai cosa è la cosa interessantissima? che il cliente ha la possibilità di entrare e vedere l'autovettura con tutte le foto ma anche la possibilità addirittura di prenotarla con un acconto con paypal di scegliersi la rata perché il sistema ha anche un sistema di simulazione finanziaria che ti dà la possibilità di scegliere la rata e chiaramente la possibilità di contattare i consulenti per proporre un'eventuale permuta, fissare un test drive insomma fare tutte quelle cose che normalmente prima si facevano qua sul sito è la possibilità di fare tutto un servizio completamente a misura per il cliente studiato per il cliente, fatto benissimo a ricordare anche le sedi dove appunto chi ci segue da casa può raggiungere questo meraviglioso posto c'è anche un numero di telefono che vedete in sovraimpressione io ci tengo a ricordarvelo, mi sono portata anche per memoria perché non voglio sbagliare nemmeno una cifra, quindi mi raccomando 0294 75 4062 è il numero di telefono che dovete fare per cosa? loro chiamano e? prima di tutto per avere informazioni su questo prodotto specifico ma solo per aver fatto questa telefonata e essere venuti qua a vedere le autovetture riceverete un cadeau, un welcome kit per entrare dalla porta principale nel mondo magico di Jaguar Land Rover non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere un po' di autovetture, cosa ne dici? cosa aspettate? Seguiteci! vi avevo promesso di vedere un po' di autovetture particolari estremamente particolari e partiamo subito con questa Jaguar E-Pace 2000 diesel automatica AVD la versione SE 150 CV vettura immatricolata a novembre del 2018 ha percorso solo 11.500 km viene proposta a 46.900 euro con il programma Approved vorrei parlare per qualche secondo del programma Approved tutte le Jaguar e le Land Rover che vedrete più tardi sono state garantite con questo programma che è gestito direttamente dalla casa automobilistica cioè la casa automobilistica ci mette la faccia per garantire la qualità del prodotto che voi state acquistando 24 mesi di garanzia, soccorso stradale con copertura europea, vettura sostitutiva, verifica qualità 165, ben 165 controlli accurati che vengono fatti in concessionaria e supervisionati dalla casa automobilistica per darvi una certificazione dello stato d'uso e del cronometraggio prova su strada della vettura e tante altre cose fra cui un bellissimo welcome pack che viene dato all'acquisto dell'autovettura proprio perché Jaguar Land Rover ci tiene a dare un prodotto di assoluta qualità paritetico al nuovo e ci mette la faccia per potervi garantire quello che state comprando Jaguar E-Paste 2.000 diesel automatica AVD versione S 150 cavalli marzo 2018, 18.500 chilometri percorsi, 37.000 se andate a vedere sul sito www.mobility.it nel menu occasioni e cliccate per esempio Jaguar o Land Rover avrete la possibilità di vedere tutte queste autovetture vedere gli equipaggiamenti particolari e gli accessori che sono veramente tanti che per questione di tempo televisivo non vi posso raccontare ma noterete anche una cosa particolare tutte le foto sono fatte tutte nella stessa maniera tutte le vetture hanno quel tipo di esposizione proprio perché anche questo fa parte degli standard approved le vetture devono essere fotografate in quella maniera per dare il massimo della resa al cliente che le vede sul sito Jaguar F-Type Coupé 3.000 V6 340 cavalli dati di matricolazione luglio 2017 4.560 chilometri percorsi solo direi 4.560 59.900 euro passiamo a Land Rover nuova Range Rover Evoca First Edition 2.000 i4 249 cavalli questa è una versione benzina febbraio 2019 4.200 chilometri percorsi pensate da 73.900 euro proposta solo il 62.300 anche lei con il programma approved di Land Rover in questo caso Range Rover Evoca HSE Dynamic 2.000 TD4 150 cavalli euro 6 maggio 2016 42.500 chilometri percorsi 59.800 il prezzo di listino avete ben 19.300 euro di risparmio perché la comprate con soli 40.500 euro avete un'autovettura usata da dare in permuta non c'è problema su gran parte di queste autovetture fra l'altro la possibilità di accedere a finanziamenti particolari proposti proprio da Jaguar Land Rover con addirittura delle maxirate e su molte le vetture soprattutto aziendali la possibilità di inserire la vettura all'interno di un leasing perché sono vetture con i resposti Lara mi stavi aspettando? Caro Daniele ti stavo aspettando e ti stavo anche ascoltando perché qui c'è davvero l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda la classe, l'eleganza e le offerte che stai presentando agli amici che ci seguono da casa ce ne sono davvero tante mi raccomando non perdete tempo e non perdete tempo nemmeno a digitare sul vostro telefono questo numero perché è davvero molto molto importante 0294754062 perché davvero è il numero di telefono dedicato a voi per che cosa Daniele? Per avere informazioni per proporre eventualmente il vostro usato fissare una prova su strada perché queste macchine vanno provate e soprattutto per ricevere un welcome pack che l'Ario Mi Auto è ben felice di darvi per farvi entrare nella porta principale nel marchio Jaguar Land andiamo avanti con andiamo avanti Range Rover Evoque SE 2000 TD4 180 CV euro 6 questa addirittura è un chilometro zero marzo 2019 proposta a soli 40.700 euro ho lasciato qua il mio iPad famoso che ci segue sempre per ricordarvi che tutte queste autovetture è una piccola selezione questa perché ce ne sono 4 volte di più sono disponibili sul sito www.mobility.it dove potete trovare le autovetture vedere le foto fate tutte uguali potete vedere i contenuti della proposta potete prenotare l'autovettura proporre il vostro usato farvi la rata di insomma potete fare veramente tutto non vi rimane che poi venire qua fissare un appuntamento provarle perché io dico sempre che le vetture vanno provate è vero tu compresti un paio di scarpe senza provarle? assolutamente mai assolutamente no per cui venite e provate perché soltanto salendo a bordo di queste vetture potete toccare con mano la qualità e l'eleganza di questo prodotto Discovery Sport SE 2.000 TD4 150 cavalli euro 6 settembre 2018 5.500 chilometri proposta a 42.500 euro Range Rover Velar R-Dynamic 2.000 diesel biturbo 240 cavalli euro 6 immatricolazione novembre 2018 prezzo di listino 77 e mezzo proposta a soli 63.900 e qua abbiamo la regina la regina perché è solo lei la regina Range Rover Sport anche se è Dynamic 2.000 SI4 versione ibrida per cui attenti anche all'ecologia immatricolazione luglio 2019 ieri 100 chilometri percorsi prezzo di listino 108 e 700 ben 18.800 euro di sconto 89.900 la portate a casa ripartiamo con una bellissima Jaguar E-Pace 2.000 diesel automatica AVD versione S 180 cavalli gennaio 2018 solo 14.600 chilometri percorsi 44.200 euro chiaramente con il programma Approved che prevede ve li ricordo 165 controlli per quanto riguarda la qualità curata del prodotto Jaguar E-Pace 2.000 diesel automatica AVD per cui 4 rotomotrici R Sport 240 cavalli settembre 2017 16.700 chilometri percorsi 54.500 qui invece abbiamo una XF Sport Brake 2.000 diesel automatica Sport Brake è la versione familiare chiamiamola così AVD per cui 4 rotomotrici Portfolio 240 cavalli Portfolio è un allestimento estremamente elegante del prodotto Jaguar novembre 2017 solo 129 chilometri percorsi da 81.900 di listino per cui praticamente 82.000 a 58.800 Passiamo in Range Rover abbiamo un Evoca che se è Dynamic 2.000 euro 6 180 cavalli TD4 chiaramente marzo 2016 60.000 chilometri percorsi solo 41.900 con il programma Approved ricordo 24 mesi di garanzia possibilità di dar dentro il vostro usato e possibilità eventualmente di finanziare qua abbiamo una chicca particolarissima solo qui dall'Area Mi Auto Range Rover Evoca SE 2.000 TD4 150 cavalli Euro 6 omologata autocarro e chi ha orecchie per intendere intenda aprile 2016 66.350 chilometri percorsi 29.500 euro autovettura praticamente sembra uscita dallo stabilimento ieri qua abbiamo un'altra chicca particolare perché in questo mondo di auto col cambio automatico c'è chi ama ancora in maniera particolare il cambio manuale volete una Evoca PureTech Pack 2.000 TD4 col cambio manuale 150 cavalli dall'Area Mi Auto c'è 150 cavalli per questa autovettura immatricolata marzo 2015 30.900 il chilometri percorsi 27.900 euro il prezzo vi ricordo che tutte queste autovetture le potete vedere sul sito www.mobility.it andando sul menu occasioni cliccando chiaramente in questo caso Land Rover dove avete la possibilità di vederla addirittura di prenotare l'autovettura tramite i Paypal avete la possibilità di chiedere la valutazione dell'usato e eventualmente di farvi anche la rata del finanziamento veramente un sito interessantissimo Range Rover Evoca SE Dynamic 2.000 TD4 180 cavalli Euro 6 aprile 2016 24.300 km percorsi 40.500 questa è una piccolissima selezione di vetture che abbiamo voluto scegliere per voi che abbiamo scelto per voi ma la disponibilità di Lario è veramente impressionante abbiamo circa 40-45 vetture del marchio Range Rover abbiamo circa un 20-25 Jaguar in questo momento in continua evoluzione tenete conto che chiaramente la disponibilità è perché le sedi sulla città di Milano solo su Milano sono 4 sedi via Lario via Petiti dove siamo via Mecenate piazzale Agrippa poi c'è la sede in provincia di Bergamo la sede Alecco per cui c'è la possibilità veramente di dare prodotto a tanti bisogna avere tante vetture Range Rover Sport HSE Dynamic 3.249 cavalli TDV6 agosto 2014 72.000 km di percorsi 40.500 torno ancora da un'altra regina c'ho la mia regina che aspetta Range Rover Sport HSE 3.000 TDV6 249 cavalli marzo 2016 76.000 km di percorsi 50.500 il prezzo chiaramente col sistema approved Lara tu mi aspetti perché immagino che sia finito il tempo il tempo sta sta terminando è tirando purtroppo sì io però volevo assolutamente approfittare di questi ultimi secondi per ricordare a chi ci sta seguendo da casa il sito internet www.mobility.it per tutte le promozioni per tutte le informazioni ma non solo c'è anche un numero di telefono dedicato proprio a voi 0294754062 Lara grazie grazie a te Daniele grazie per questa bellissima esperienza quindi mi raccomando voglio condividerla anche con voi perfetto vi aspettiamo vi aspettano numerosissimi ciao a presto a presto grazie a te Daniele